René. Uno scintillio glitterato disegna l'eccentrica texture di René. Ispirata ai frizzanti anni 80, carichi di luci e di colori sgargianti, René è una finitura decorativa acrilica all'acqua per interni con raffinati effetti glitterati. Preparazione delle superfici e dei colori. Supporti idonei. Risultano idonei tutti i fondi ad intonaco civile, a gesso, cartongesso, a stucco e tutte le superfici piane e lisce. Preparazione dei supporti. Dopo accurata pulizia e stuccatura dei supporti applicare una mano a pennello di Fashion Fix diluito 1 a 3 con acqua. Nel caso di fondi particolarmente sfarinanti è consigliabile una mano preventiva di Fashion Fix diluito 1 a 6 con acqua. Applicare il prodotto diluito con pennello in una mano fino a completa impregnazione del fondo. René è disponibile in base neutra per tinte medie e forti e in versione luxury per bianchi e tinte chiare. René è da diluire al 10-15% con acqua. Il prodotto è di facile applicazione. Dopo aver preparato i supporti applicare la prima mano al rullo di Fashion Primer fine in tinta. Dopo 4-6 ore dall'applicazione del primer e a supporto completamente asciutto, applicare la prima mano di René neutro o René Luxury Glitterato. Dopo 4-6 ore e a supporto completamente asciutto, applicare la seconda ed ultima mano di René glitterato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.